Sono emozionato sinceramente, è una notizia che senza parole resto, mi fa molto piacere, spero che la portino presso in Italia, sono emozionato, mi ha dato una notizia splendida, spero anche per gli altri sarà così. Siamo molto contenti che sia stata liberata, che non sia successo nulla assolutamente di grave, di drammatico. Grazie. 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 Grazie.